Ciao amici e benvenuti nello spettoglass del gaming su Redfall e The Last of Us su PC fanno piangere e adesso vi dico il perché come ben sapete questa rubrica tratta praticamente di cronaca sui videogame in modo costruttivo argomentato critico e alcune volte in modo provocatorio e anche in modo ironico con lo scopo di sentire la vostra opinione oggi in merino c'è Redfall e The Last of Us su PC iniziamo dal primo The Last of Us parte 1 come ben sapete un'esclusiva playstation che ha riscosso un enorme successo ai tempi della playstation 3 poi come remaster per la playstation 4 e ultimamente come remake per playstation 5 su questo non ci piove si tratta di un'esclusiva playstation che ha saputo conquistare moltissimi giocatori fan di Sony ma su pc è la stessa cosa purtroppo no nonostante tutto sia tra virgolette su console playstation graficamente bello da vedere gameplay divertente impegnativo e una trama molto matura e interessante i giocatori per pc non hanno saputo diciamo godere appieno di questa qualità perché la versione per pc del remake di The Last of Us è uscita scusati termine col culo piena di bug piena di glitch purtroppo hanno rovinato l'esperienza complessiva del gioco come potete vedere dal video che ho catturato tramite youtube purtroppo il gioco è uscito veramente male ingiocabile e pieno di problemi non mi venite a dire nei commenti eh ma tanto usciranno le patch no no basta usare questa scusante del cazzo scusate il termine perché ok è vero uno fa la patch fa l'aggiornamento sistemi problemi ma ricordiamoci di cyberpunk per favore gioco in sé dall'enorme potenziale rovinato da una mancanza di cura da parte degli sviluppatori uscito con gravi problemi ragazzi ricordiamoci una cosa che voi comprate un gioco per playstation o xbox o switch o pc minimo minimo dovrebbe essere godibile dovrebbe essere giocabile non avere gravi problemi che rendono il gioco eh ingiocabile e oltretutto pieno di problemi crash che eh rovinano l'esperienza perché noi li paghiamo questi giochi cioè ragazzi io mi domando e dico ma il controllo qualità dove cavolo sta non c'è ragazzi state attenti perché veramente questo è un vizio che molti sviluppatori purtroppo stanno seguendo basta basta lanciare i giochi disastrati in questo modo capisco che magari piccoli problemi che possono essere sistemati ma non da rendere un gioco al lancio ingiocabile questo purtroppo non lo tollero poi seconda cosa a proposito di qualità seconda cosa parliamo anche di microsoft che anche lei non scherza ultimamente microsoft ha bisogno di esclusive di punta e sta puntando su varie esclusive dai suoi ultimi acquisti che poi c'è ancora in ballo la storia activision ma lì lasciamo stare per il momento acquistato bedesta ovvero che c'è dietro arcane studio c'è dietro il team id software e via dicendo arcane che noi ben conosciamo ha prodotto giochi come prei disonore e idea del loop che pare mio personale sono bei giochi ci ho giocato mi sono piaciuti per quanto riguarda il gameplay molto diciamo divertente impegnativo e soprattutto offriva anche dei buoni spunti delle piccole idee di gameplay meramente innovative che sapevano trattenere il giocatore poi delle trame interessanti e ovviamente sì l'unica pecca dei loro giochi è un po' l'aspetto tecnico ma compensavo con un gameplay meramente ben fatto ecco ragazzi purtroppo redfall esclusiva xbox è la prima volta che un titolo arcade mi lascia parecchi dubbi parecchi dubbi per alcune notizie rilasciate ad esempio ok il gioco sarà giocabile in singolo e in cooperativa ma con l'obbligo dell'online adesso vabbè adesso hanno rilasciato che in futuro potranno togliere l'online renderlo praticamente accessibile per quanto riguarda i giocatori singolo senza l'obbligo della connessione anche perché sanno che molti utenti hanno la connessione che praticamente perde quindi rende il gioco praticamente inutilizzabile quindi vogliono venire incontro circa di venire incontro a questo tipo di giocatori da una parte anche un bene spero che riescono però ancora adesso ci sono i dubbi per quanto riguarda la connessione obbligatoria un po' come diablo 4 praticamente l'altro dubbio che è venuto fuori che è una cosa inaccettabile che ha fatto un po' diciamo tra virgolette incazzare i giocatori l'utenza xbox è stata l'ultima dichiarazione redfall per il momento non supporterà i 60 fotogrammi al secondo stiamo parlando di un fps ovvero uno sparatutto in prima persona looter shooter praticamente con le loot dove noi possiamo trovare delle armi di varia potenza eccetera eccetera ecco i 60 fps i 60 fotogrammi uno sparatutto sono fondamentali per rendere l'azione di gioco fluibile e fluida cioè diciamo veloce senza ralentamenti hanno detto che per il momento non ci sarà questo supporto per una console potente come la xbox serie x e per i fan xbox questa cosa non è andata a genio ragazzi io c'è molti dubbi su redfall non tanto per la connessione obbligatoria perché può esserci o non può esserci se in caso non c'è per i giocatori singolo tanto di cappello ma ho i dubbi per quanto riguarda la comunicazione che stanno rilasciando per questo titolo nuovo questa nuova ip di arcane studio un po' è stato presentato un po' male tramite un marketing che non è molto perfetto oddio anche gli altri titoli di arcane come livello di marketing non erano perfetti graficamente non è maluccio è un piccolo passo avanti rispetto agli altri giochi ma ragazzi non c'è storia senza il supporto dei 60 fps per una console potente come xbox serie x è un bel danno anche perché non sta sollevando molto interesse da parte dei giocatori di xbox io spero solo che non diventi un flop spero che non sia perché in questo momento xbox dato dal flop di halo infinite dal lancio diciamo disastroso di halo infinite i più mancanze di esclusive di punta già partire male con redfall non è molto diciamo conveniente per le immagini di xbox cioè l'xbox ha fatto annunci su acquisizione di Bethesda acquisizione di Activision in procinto ma se già parti dei progetti così con degli annunci così insomma non è che parti molto bene io spero, spero effettivamente che arcane lasci Redfall con un bel gioco come è successo con Dishonored e via dicendo Prey, Dead Loops spero che venga fuori un bel gioco in loro stile però a me mi dispiace a dirlo sinceramente perché io credo in loro però ultimamente Redfall non mi dà diciamo quell'interesse quella fiducia c'è un po' di, come si potrebbe dire di dubbi, molto dubbi spero che vengono smentiti all'uscita del gioco cosa che se caso così noi ovviamente porteremo alla recessione unboxing ma per il momento c'è molti dubbi che venga fuori un flop la possibilità che venga fuori un flop scusate spero di no comunque ragazzi ditemi voi la vostra nei commenti su The Last of Us per PC su Redfall fatemi sapere un po' cosa ne pensate bene raga noi ci vediamo alla prossima grazie per aver seguito questo spettaculess se volete iscrivetevi al canale il link in descrizione trovate come sempre diciamo tutte le info della redazione e un saluto dell'uomo misterioso da Lady Blue e dal vostro amico Bombe vi saluto anche la nostra mascotte che mi sta sdrannocchiando il piede e noi ci vediamo alla prossima ciao a tutti bye bye